Un rendiconto importante è quello degli assunti nell'anno 2016, parliamo di 2700 assunzioni in sanità, una maggiore emissione fatta negli ultimi anni. Così il Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che con la dirigente del Servizio Salute, Lucia Di Furia, e il Presidente della Commissione Sanità, Fabrizio Volpini, ha rendicontato il piano assunzioni per il sistema sanitario regionale riferito al 31 dicembre 2016. Il 2017 è l'anno che vedrà effettivamente il risultato. Abbiamo dato al sistema sanitario quella quantità di personale che ci permette oggi di ripartire la grande con i servizi e i cittadini presto si accorgeranno di questa differenza proprio per l'accorciamento della lista d'attesa che è uno dei nostri obiettivi e una maggiore qualità nel servizio sanitario. Tra IRCA, ASUR, Ospedali Riuniti e Marche Nord sono 2.700 le assunzioni effettuate e altre 486 sono in itinere, per un numero complessivo di 3.186 persone, assunte dal sistema sanitario regionale con un turnover del 128%. Altre 64 persone sono poi previste per assistere ai terremotati, prevalentemente figure di carattere psicologico, adatte ai problemi aggiuntivi causati dal sisma. Le Marche Regione Virtuosa hanno quindi potuto procedere con questa iniezione di professionisti che dà effetti immediati, quali l'incremento delle prestazioni e l'abbattimento delle liste d'attesa. Siamo soddisfatti di questa scelta. Abbiamo portato il numero complessivo degli assunti superiore a quello che è il tetto che lo Stato ci dà come punto di rientro nel 2020 e passa. Cosa significa? Che oggi abbiamo in sanità un numero importante di persone che possono seguire anche la fase estremamente delicata dell'avvio della riforma. A gennaio è partito il nuovo sistema sanitario, quindi accompagnare il cambiamento da un lato, aumentare i servizi dall'altro e rispondere a un bisogno molto forte all'interno delle strutture di avere finalmente personale, giovane, disposizione su quali puntare per il futuro.